Giovedì 17 novembre, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa prima dei quotidiani, uno sguardo ai numeri del coronavirus, numeri diffusi dall'ASREM nell'ultimo bollettino, non ci sono decessi, due nuovi ricoveri in malattie infettive, così i pazienti ricoverati al Cardarelli salgono a 9, sono invece 111 nuovi positivi, 7 al tampone molecolare, 104 all'antigenico, su 529 esami processati, con tasso di positività al 20,9%, 21 i guariti, 4.759 i casi attualmente positivi. Ed ora i quotidiani, iniziamo come sempre da primo piano molise che apre con l'autonomia differenziata e con le regioni del sud in rivolta. Oggi a Roma l'incontro con il ministro Calderoli sul disegno di legge che dà più poteri ai territori ma penalizza il mezzogiorno, toma pronti alla battaglia. Intanto la sanità resta al centro del dibattito. Stamattina l'operazione Verità di Gemelli e Neuromed e a proposito di sanità, posti letto Covid, numeri fasulli, il GIP chiude il caso da dati esatti, disposta l'archiviazione tra gli indagati, l'ex Tg Salute Urbani, scagionato il presidente Toma, valuta la querela per calugna. Approfondiamo l'argomento nelle pagine interne con il pezzo realizzato dalla collega Rita Iacobucci, corretti dati inviati a Roma, archiviata l'inchiesta, scagionati Toma, Giustini, Florenzano, l'ex Tg del Ministero Urbani, insieme ad altri quattro indagati, il presidente mandato ai legali per verificare la calugna. I carabinieri del NAS, si legge nel pezzo di Iacobucci, hanno verificato che i letti disponibili negli ospedali pubblici, nelle cliniche private convenzionate, Gemelli e Neuromed, erano in totale 39. Qui si giocava la partita. Torniamo sulla prima pagina di primo piano Molise con le altre notizie, con il bollettino, 111 positivi e 21 guariti, sale il totale dei ricoverati. E poi arte, scienza e tecnologia, si alza il sipario su About the Future. San Martino, rifornimento in Puglia e spaccio in paese, altri tre arresti per droga. E poi termoli, pistola in pugno, minaccia meccanico e dipendente, 45enne pugliese in manette. C'è il ricordo di Pasquale Napoli, lo scultore che parlava i blocchi di pietra e li modellava con le carezze. A proposito di Pasquale Napoli, vi anticipo che questa mattina, ma anche oggi pomeriggio, Teleregione proporrà il ricordo di Pasquale Napoli. E poi le altre notizie. Isernia, under 30, in politica, mezzola stregata dalla Vinci. C'è il punto di spalla di Sergio Genovese allo sport alla deriva, mentre in taglio alto ci sono i richiami appunto di sport. Domenica c'è il venafro di Lollo e Fazio ancora in dubbio. Questa è la notizia che arriva dallo spogliatoio del Campobasso. Bastogirardi, la squadra di Coletti si prepara per la sfida al Mattese di Urbano. Termoli, giallorussi vanno a caccia della prima vittoria. Match tosto con la San Benedettese. Lasciamo primo piano. Andiamo sui quotidiani nazionali. Sono diverse le notizie che troveremo. Tra i temi principali, quello sicuramente più importante riguarda il missile in Polonia. Cala la tensione. Biden è nato un incidente, non un attacco russo. Il Cremlino convoca l'ambasciatore di Varsavia, gli Stati Uniti. Il razzo è di Kiev, ma la responsabilità rimane di chi ha scatenato il conflitto. Zelensky insiste, è colpa di Putin. E poi le altre notizie. Meloni vede Xi con la Cina dialogo riaperto. Un'ora di colloquio. E ancora Artemis 1 scatta, scattata la missione che ci riporterà sulla Luna, riuscito il lancio. Nell'operazione c'è anche la tecnologia italiana. Il Corriere della Sera propone anche un'intervista a De Benedetti, che dice al PD appoggino Moratti e definisce il Partito Democratico un partito di baroni. L'intervista è di Aldo Cazzullo. Andiamo su Repubblica. Vediamo l'apertura. Un'apertura diversa rispetto al Corriere. Una intervista a Landini, segretario della CGL. Salari alti, basta bonus. Il segretario della CGL i Benefit in busta paga specchietti per le allodole, ma Banca Italia frena sugli aumenti delle retribuzioni. Il rialzo dei prezzi mette in pericolo anche il PNRR. La Premier conferma la squadra di Draghi, che ha gestito il recovery. Intanto l'inflazione è record a più, 11,8%. Inflazione è record, dunque è eroso il potere d'acquisto delle famiglie. C'è il commento di Francesco Manacorda per l'Italia, l'esame più difficile. Le altre notizie al G20 gelo Meloni-Macron, ma affari d'oro con Xi. E poi in Sicilia due gruppi di Forza Italia, Eschifani, già traballa. C'è un braccio di ferro davvero forte con il coordinatore regionale Miciche. E poi questa fotonotizia, Varsavia rafforzata, la paura corre lungo il confine polacco-ucraino. E caso archiviato, la Nato conferma quei missili sparati da Kiev. Lasciamo la Repubblica, andiamo sui quotidiani romani. Iniziamo dal messaggero, in apertura la manovra si accelera, c'è la bozza finanziaria da 35 miliardi lunedì in Consiglio dei Ministri. Cedolare secca per negozi e premi detassati, pensioni verso quota 103, autonomia troppi poteri al nord. Le regioni del sud insorgono. E poi il Covid come l'influenza, senza sintomi si torna al lavoro dopo 5 giorni. Salute il Ministro Schillaci annuncia la svolta. La malattia è ormai endemica, grazie ai vaccini. L'ha detto ieri, ospite di porta a porta. Meloni vede Xi, accordo per 200 aerei alla Cina. Ieri vertici a Bali con invito a Pechino. G20, ha detto la Meloni. È stato un successo. Poi ci sono le dichiarazioni di piante dosi alle Camere sulla vicenda migranti, basta ingressi illegali. La Unione Europea sui profughi aiuteremo l'Italia. Il Ministro alle Camere dice che saremo accoglienti, ma basta ingressi illegali. Le ONG, un fattore di attrazione dei flussi. Poi c'è questa fotonotizia in taglio centrale. Iran, la rivoluzione dei baci in strada. Virale la foto dei due giovani. La polizia spara nella metro a Teheran. L'altro quotidiano romano, il Tempo. Vediamo l'apertura scelta. Sulla Unione Europea che dà ragione all'Italia, Eurocommissaria Johansson, per salvare le vite dei migranti, basta non farli partire. Poi piante dosi contro le ONG. Non possono scegliere in quali porti attraccare. Ed è ora si scandalizzano, ma le misure del governo erano già nel codice Minniti. E poi il Tempo di Osho, ufficiale della terza candidatura di Trump alla presidenza USA. Osho che ovviamente gioca su questa immagine con Trump, Obama e Biden. Nel frattempo cercate, denunfa, scoppia una guerra mondia nucleare. Andiamo sul fatto quotidiano. Il fatto quotidiano che utilizza un titolo davvero sarcastico. Il missile russo è Ucraino. Guerra mondiale rinviata. Fake news. Zelensky accusa Mosca e chiede l'intervento diretto della Nato. Bellicisti ritirata. Politici e giornalisti già pronti all'attacco. Gelati da Biden e Stoltenberg. E poi Bali. Meloni vede Xi che la invita a Pechino. Miller degli USA dice Kiev non ricaccerà i russi. Armi il 29 alle camere. La mozione del Movimento 5 Stelle. In taglio alto ci sono i dati del Censis con il super bonus 900 mila occupati. Con 55 miliardi ne ha prodotti 115. E poi c'è l'alleanza antipovertà. Il reddito di cittadinanza resti così. Anzi più soldi e più percettori. Senza maggioranza la strana vicenda in Sicilia. Schifari, Giaccappò, Micicchè, fa votare il Movimento 5 Stelle. La prima del manifesto. In taglio alto c'è la vicenda migranti. Con l'attacco del ministro Piantedosi in Parlamento. Ribadita la linea dura. Navi, ONG, posto sicuro per i migranti. Mentre in taglio centrale c'è questa foto. Questa grande foto. The day after. Contrordine. Niente terza guerra mondiale. Il missile sulla Polonia era ucraino. Gli USA restano calmi. Dopo una notte d'ansia Mosca tornerà a bombardare civili proprio come ieri. E il capo di Stato Maggiore americano mille e avverte. Difficile che Chiev liberi tutto il paese. La prima anche della verità. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Guerra mondiale rinviata. Sinistra delusa è stata l'Ucraina a colpire la Polonia. Non Putin e poi la Meloni che non sbaglia una mossa a Bali. E allora la criticano perché ha portato la figlia con sé. Diamo uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore. Il quotidiano politico economico e finanziario di Confindustria. Ecco qui la prima pagina. Super bonus cessione dei crediti e sconto in fattura frazionati in 10 anni. DL Aiuti Quater. L'obiettivo è sbloccare il mercato e favorire chi non ha più spazi fiscali. Il nuovo regime applicabile alle operazioni perfezionate entro il 10 novembre scorso. Infine la Gazzetta dello Sport con le notizie sportive. C'è lo spavento per Tonali. Cade male, picchia testa e spalla in clinica e esami ok. L'Italia vola con grifo a Tirana ieri sera. Brividi per il rosso nero e vittoria con l'Albania per gli azzurri che vincono appunto 3 a 1. E poi la Gazzetta si occupa del mercato vicario. Il futuro importa, la signora è in buone mani, il dopo Schezni è cominciato. Avviati i contatti con l'Empoli, la Juve vuole chiudere per il portiere già a gennaio. Zoff lo promuove a tutta la concretezza di noi friulani. E ovviamente fa ripuntati anche sul Mondiale 2020. Da 1.500 la Coppa mai vinta, Ronaldo e Messi al quinto giro. È l'ultimo ballo per i due super fenomeni. Mentre l'Argentina di Maria Brilla di Bala rischia di tornare a casa. Queste le ultime che arrivano dalla Celeste. E poi ci sono le altre notizie del mercato. Rinforzi a centrocampo per il Milan e l'Inter. Spesa in centro, dice la Gazzetta dello Sport. Il palinsesto, cosa troverete oggi sulla nostra rete? C'è Paese Mio alle 11. A mezzogiorno, come vi dicevo, l'incontro con il ricordo dello scultore Pasquale Napoli. L'informazione alle 14 con il collega Pasquale Damiani. Punto Verde, ancora il ricordo di Pasquale Napoli. Alle 19.30 invece c'è Samantha Charla. Alla 21 non perdete Francesco Presutti con il suo Molise Sport. Tanti argomenti al centro della trasmissione. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie per averci scelto.